Incontro mondiale ma in videoconferenza per Papa Francesco, giovedì pomeriggio, dall'aula del Sinodo, attrezzata per l'occasione. Il Papa ha parlato ai giovani ed ha sottolineato il valore della comunicazione che costruisce ponti e sa ascoltare in un mondo oramai in guerra. Motivo dell'appuntamento era il terzo incontro mondiale dei direttori di scuola Soccurrentes, una rete mondiale delle scuole per l'incontro che riunisce realtà educative di culture e religioni diverse e nata su impulso del Papa stesso. Il Pontevice è stato in videoconferenza con studenti aderenti alla rete in diversi paesi dei cinque continenti, Salvador, Sudafrica, Turchia, Israele, Australia, Camerun. Intense le risposte del Papa in un clima di gioviale simpatia e dunque il mandato finale di Papa Francesco ai giovani. Il futuro è nelle vostre mani, afferratelo affinché sia migliore. Grazie a tutti.